Nissa Acragas comincia ad entrare nel vivo. Da determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, sulla partita si è sospeso il giudizio al fine di approfondire l'analisi dei rischi e nel contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, le società non possono far avviare la vendita dei taglianti. Infatti, domani, venerdì 20 gennaio, ci sarà un tavolo tecnico in questura, con la partecipazione dei dirigenti e delle associazioni sportive interessate. Ogni decisione adottata da questo tavolo tecnico verrà comunicata successivamente, considerata la delicatezza della partita, visto i rapporti non proprio idilliaci fra le due tifoserie, anche alla luce di quanto avvenuto prima di Nissa Enna a due passi dal Palmindelli. Intanto, prosegue la preparazione degli uomini di Alessio Sferrazza in vista del big match di domenica pomeriggio al Tomaselli, dove i biancoscudati devono riprovare a salire la china dopo la battuta di arresto di Marineo e provare ad avere la meglio sull'Agragas, che scenderà al Tomaselli con un trend di risultati positivi e la consapevolezza della prima della classe.